E la cosa resta fra noi, vero? Non so niente di che cosa parli. Quanto mi manca Naomi. Che cosa fai? Niente, calma, massaggio la parte per facilitare l'assorbimento degli ormoni. Ti assicuro che non ne traggo assolutamente alcun piacere. Grazie. Ho fatto unicizia con tutti gli uomini qui, ma con voi donne è più difficile, siete come una sesta. Oddio. Sono solo gli ormoni. Non far caso a me, sono ridicola. Questa l'ho già sentita. Il mio cervello è come fuori servizio. E anche questa. Oddio il mio fidanzato. Questa più di tutto. Lo sai che ha detto che è una benedizione? Che io non posso avere figli? Non sembra da sempre. Ah, sì, sì, è quello che ha detto. È una benedizione. Una benedizione, davvero? Perché è una benedizione? Per lui è l'unico motivo per questo. Ok. Sei a posto. No, 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 no. Grazie a tutti